Ah, che bello garbaggiare! Mi scusi? Sì? Vede, il mio amico rosa deve fare il garbage. No, 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 no! Ci sono prima io, aspetti! Ehi, ma vai via! Prego, signora, può andare. Oh, ma grazie, che gentile che è. Molto bene. Bene, possiamo anche andare. Mi segua. Che strano questo nero. No, 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 non va. Non va manco questa, non va manco questa. E deve fare la task il mio amico rosa. No, tocca a me. Vai via! Ma vai via tu! Ha detto, vai a prendere la card, vai. No, la mia card! Ma prego, rosa, può andare. Tutto quanto suo. Grazie. Oh, mamma, oh, mamma, devo nascondermi. Quel nero è davvero strano. Signora Rina rosa, dov'è? Eh, oh, mamma, secondo me è lui l'impostore. Ah, ma meno male che se ne è andato. Sì, che bello. Adesso posso fare lo scan in santa pace. Sicuramente qua non verrà mai. Ah, ma... Ah, ma... Hai fatto. Oh, ma, 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 ma dov'è il rosso? Ah, ma... Ah, ho fatto quello che mi hai chiesto. Molto bene. Sai, non faccio niente a gratis. Sgancia. Ecco qua la grana. Sai qual è il profumo dello spazio? Vorrei tanto saperlo, però. Beh, è il tuo giorno fortunato. Cosa? Allarme! Ragazzi, ho visto il rosso che uccideva il mio amico rosa davanti a me. Davvero? Ma... Non è... Ah! Pa 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 pa! Fammi fare questa cavolo di task, per favore. Funziona? Funziona? Ah, ecco fatto. Ce l'ho fatta. Che bello. Una gioia ogni tanto. Lalla, è davvero una bella giornata. Anche per me è una bella giornata. Allora, fa troppo troppo caldo. Fammi abbassare? Che cosa stai facendo? Niente. Vabbè, allora, fa troppo caldo. Devo abbassare la tempra... Ecco, questo qua nel sedere! Cosa nel sedere? Nulla! Ehm... Ah! Vuoi giocare con la magia? Ecco la magia! Bah! 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 Beccati questo! 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 Oh! Banzai! Uuuu! Ah! 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 Bah! Oh! Mamma mia! Sto crewmate ci sa fare sul serio! Mamma mia! Le potte! Le potte! Le potte! Oh! Ragazzi però andateci piano eh! Oh! Bammina! Aspetta poco che fa! Non si arrende l'arancione! È immortale pure lui! Guarda la rissa! Chi vincerà ragazzi? Il verde o l'arancione? Lo gli sbuca dietro secondo me! Oh mamma! Dove sei verde? Dove? Dove? Sa! Sa! Ragazzi il verde sta rimontando! Oh no! Oh! No! Aspetta ho capito che cosa succede adesso! Ecco! Ecco lo sapevo! Ma! 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 Tu! Loro! Io! No! Non è come sembra! Non è come sembra! Siamo giunti tutti noi qui riuniti per eliminare l'arancione! Ragazzi ma la lava scotta! È troppo calda! Vai! No! L'arancione was not the imposter! Un imposter reminds! Cosa? Era un crewmate! Lo è sempre stato! C'è una stanza segreta in Among Us! Eh sì sì sì! Avete capito bene! Eh 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 eh! Ecco fatto! Iiiiiiii! Oh! Ragazzi ma dov'è il rosso? Stava da queste parti! Mi sa che è sceso giù! Andiamo a vedere! Andiamo! C'è mancato poco! Allora! Ecco fatto! Ah ah ah! Vedete questa qua? E' la stanza segreta dell'impostore! Che sta vicino a App Engine! E qua può attivare tutte quante le trappole! Vedete? Vedete? Adesso ve le fa vedere le trappole come sono! Ecco guardate la prima! Ecco quando fate asteroidi! Guardate che succede! Guarda! Che pin! Ecco guarda! Ecco! Ecco! E mo ha fatto pure la puzzetta! Vabbè! Mentre la seconda sta in... In... Vicino alle foglie! Aspetta che succede qua? Oh ma 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 ma! Mo scoppia tutto secondo me! Ma esplode tutto! No! Fa l'invasione di... Di fa! Ua bellissimo! Sono morti per le foglie! E cioè ragazzi se tante tante foglie comunque poi fanno male ad un certo punto eh! E invece qua in storage... Pic! Che succede? Peh! Bhè! È diventata una frittella! Che buono! Ecco ecco! Si! Ma aspettate un momentino! Dove sono? Blu, bianco, verde, ciano, arancione e il rosso! Devo andare subito a controllare! Eh 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 eh! Oh mamma! Cos'è questa stanza? Ma che cosa diavolo sta succedendo qua dentro! Che cosa Niente Devo avvertire gli altri No Oh no Oh mamma che cavolo sta succedendo Quanti corpi ci sono là sotto Oh mamma Mamma Va bene Ah sono morti tutti quanti Anche lì postore è morto Bello Allora devo sistemare questo cavolo Di ecco fa Oh no il reattore Devo andare subito a ripararlo Sicuramente ci sarà qualcuno che mi darà una mano Ma dove vado a destra o a sinistra Vado a sinistra dai Forse è meglio mettiamo questa barona qua vicino Ecco fatto Aspettando il secondo utente Cosa Ma perché nessuno viene Oh mamma Ragazzi dove siete Venite Oh no 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 Non ci arrivo Come fa 9 8 7 6 5 4 3 2 Ehi ma Ehi ciao Ce l'abbiamo fatta Si che bello Siamo grandi Si Andiamo Qualcosa vi dice C'è qualcosa che non va Oh lo sapevo Lo sa L'ha affettato come un salamino Che c'è Niente Oh bene Possiamo Adesso L'ha affatto fuori Perché siamo qui Solo per soffrire Che senso ha essere dei fantasmi In questo gioco Perché dobbiamo essere dei fantasmi Perché Che cosa succederebbe Se Among Us avesse 1000 giocatori e 99 impostori Il casino guarda Steve Come sta là che non sa cosa deve fare Ecco Oh mamma guardate quanti ce ne sono Non si capirebbe un cavolo Infatti E poi si è banchato pure il gioco E poi esplode tutto Oh ma che cavolo Cosa sta succedendo Si sta prendendo Si è distrutta l'astronave Oh mamma Tutti quanti che iniziano a volare Che casino per favore Perché non creano una modalità del genere Sarebbe troppo figa E giustamente Poi l'hanno visto tutti Però non lo possono manco segnalare Perché non possono andare nell'altra stanza Cioè lui può anche uccidere Perché tanto non segnalano Ma che cosa Aspetta ma vuole cercare di chiedere aiuto Va a chiedere aiuto Si 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 Vediamo se lo ascoltano Vai si siede con le cuffie Vai Dov'è che chiede Ah Polus Polus c'è la base Guarda Eh ma nessuno lo ascolta Perché stanno Stanno mangiando la pizza Aiuto Lo dice in tutte le lingue del mondo Oh mamma La rista La rista La rista La rista Mo salta Mo salta Va dall'altra parte C'è l'impostore Chiù mette l'impostore Chiù mette l'impostore Oh mamma Lo lanciano No Non lanciatelo Non è lui l'impostore E infatti Dove finisce Oddio che figo Va nel vuoto cosmico La venti In In electrical Non c'era nessuno Ragazzi Non sto capendo più niente Cosa succede qui Oh mamma Steve Steve ecco 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 Steve Innocente Oh mamma Oh mamma È rimasto solo Steve L'impostore Steve l'impostore Chi è che vincerà fra i due Oh mamma Ce l'ha fatta per un pelo Eccolo No eccoli Eccoli La sfida all'ultimo sangue Chi dei due riuscirà a vincere Steve l'impostore Steve l'impostore Stanno precipitando Dove precipitano Oh mamma Steve ce l'ha fatta Sono arrivati in polus Non ci posso credere Ce l'ha fatta Hanno vinto Cioè sono morti tutti Tranne Steve Chi si iscrive al canale È un grande Chi non si iscrive È una pigna secca Ha 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 Grazie.